per creare l'effetto glow skin su silvia partiamo con la matita lip pencil numero 6 che però può essere utilizzata benissimo anche chiaramente per la parte degli occhi ricordiamoci che le matite vor makeup si possono utilizzare sia diciamo nella maniera classica asciutte ma si possono utilizzare anche grazie all'aiuto di un lighter come una materia creamy e noi la utilizzeremo proprio in questa maniera con l'aiuto di un accendino andiamo a riscaldare velocemente la punta della nostra matita è con un pennello da smoky andiamo a inserire la colorazione di questo rosa molto delicato sulla palpebra in questa maniera guardate con pochissimissimo prodotto la quantità di prodotto che generiamo sulla palpebra apriamo silvia